Ciao amici! Sapete qual è la domanda che mi fanno più spesso? Se ti tingi i capelli? No, quella è la seconda. E la risposta comunque è no, i miei capelli sono sempre stati al naturale, non li ho mai tinti in vita mia. Ma veniamo alla domanda che mi fanno più spesso, è questa. Cosa mangi a colazione? Per rispondere ho fatto una playlist con i diversi menù che uso io per iniziare bene la mia giornata. Io li ho visti, ma perché dici di usare le proteine in polvere vorrei sapere? Oggi ve lo spiego in questo video. Aggiungere le proteine in polvere al mattino nella colazione è uno dei modi più facili, pratici e veloci per non avere cali durante la giornata e per assumere il corretto apporto di proteine, di cui abbiamo bisogno, visto che spesso, durante la giornata, è più facile mangiare carboidrati che proteine. Le proteine servono per attivare il metabolismo, avere energia, sviluppare una muscolatura sana e aumentare la massa magra, invece che il grasso. Scusa, ma le proteine in polvere non sono roba da bodybuilder? Non vorrai mica farmi diventare una montagna di muscoli come Arnold, Shark e Neger? Ci sono proteine e proteine, non sono tutte uguali. E ci sono molti falsi miti intorno a questo argomento, voglio chiarire. Alcune proteine sono specifiche per gli sportivi, altre vanno bene per tutti, altre ancora sono piene di roba chimica e vanno evitate. Ma come faccio a sapere cosa scegliere? Per me sono tutti uguali, non ci capisco niente. Ci ho pensato io! Ci dirai, come al solito, di leggerci le etichette. No, ho fatto di meglio, molto meglio. Ho contattato uno dei produttori delle proteine che uso io personalmente e gli ho detto Se parlo del vostro prodotto in uno dei miei video, mi date un codice sconto per tutti gli amici del mio canale? E loro non solo hanno detto di sì, ma si sono anche offerti di sponsorizzare questo video. Grazie. Ah, ma anche le sponsorizzazioni adesso! E cosa dovevo dire di no? Io uso queste proteine da tempo perché soddisfano i miei standard di qualità e da oggi potete farlo anche voi, a un prezzo vantaggioso. A me piace l'idea, se piace anche a voi mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco, io uso le proteine della Food Spring perché soddisfano tutte le mie esigenze nutrizionali e di qualità. Potete verificare tutte le loro caratteristiche andando a vedere nel link qui o in descrizione. Le proteine di qualità per me sono quelle vegane perché, uno, la materia prima da cui derivano non è di origine animale, quindi, due, si digeriscono meglio. Ma io credevo che le proteine migliori fossero quelle di origine animale, no? Le proteine vegane delle polveri proteiche vengono assimilate molto bene e nutrono come le proteine del latte o dell'uovo. Ci sono numerose ricerche anche molto autorevoli che lo dimostrano. Però devono essere biologiche, provenire da fonti sicure, non inquinate e da materie prime diverse, così hanno un profilo di aminoacidi più completo. Queste qui sono proteine di piselli, riso, canapa e semi di girasole. Garantiscono tutti gli aminoacidi essenziali, tra cui leucina, isoleucina e valina, tanto importanti per la nostra salute. La Food Spring sceglie le materie prime solo dove si trovano intatte in condizioni naturali, come la soia biologica del lago di Costanza, le noci di cocco bio, delle filippine, le bacche di goji, dalle montagne incontaminate dello Ningya. E quando possibile utilizza materie prime a chilometri zero. Addirittura! Sì, le proteine sono senza lattosio e senza glutine, quindi facili da digerire per tutti. Vengono assimilate subito e mettono a disposizione del corpo proteine a lunga durata. Sì, ma costeranno una fortuna. Tu sei la solita viziata che si può permettere tutto. Magari fosse così, non posso permettermi quello che voglio. Chi mi conosce di persona lo sa che io non sono proprio una viziata. Sto molto attenta al rapporto qualità-prezzo e ho scelto queste proteine perché mi danno il massimo al prezzo giusto. Così già dal mattino mi sento molto più energica e resisto bene tutto il giorno perché io voglio sentirmi così. Anche io! Quindi lo sconto di cui parlavi prima? Certo, eccolo. L'azienda, a tutti i follower del mio canale e dei miei social, fa uno sconto del 15% inserendo il codice Vignali, scritto minuscolo, YT maiuscolo. Comunque tutte le istruzioni e i link sono in descrizione. Andate a vedere. Non è male. Le proteine sono ottime e davvero convenienti. Se vi fa piacere andate a vedere i prodotti del loro sito. Sono molto particolari, qualcuno molto originale e anche divertente. Rispondono a tutte le diverse esigenze nutrizionali e la qualità è sempre ottima. Il link è qui in descrizione. Bene, ora condividete questo video e iscrivetevi al canale. Se non lo avete ancora fatto, è facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche. Noi ci vediamo presto con un prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Ok, il prezzo giusto. Io viziata! Ok, il prezzo giusto.